E' stato rinnovato il protocollo d'intesa tra la prefettura di Teramo e gli istituti di credito provinciali, alla presenza anche del responsabile per la sicurezza dell'ABI. Il protocollo riguarda la prevenzione per le rapine che negli ultimi tempi, a onor del vero, sono diminuite del 50% grazie proprio a questa serie di accordi. Infatti nel 2014 le rapine in banca in provincia di Teramo sono state 10 contro le 19 dell'anno precedente. Introdotte nel protocollo anche nuove misure di sicurezza all'interno delle filiali e a protezione degli sportelli Bancomat. E' vincente questa collaborazione perché la prima sottoscrizione di questo patto ci ha permesso di verificare una riduzione delle rapine in banca di circa il 50% tra il 2013 e il 2014. Quindi è una collaborazione vincente, significa che quando c'è sinergia e quindi disponibilità da parte dei soggetti interessati si possono raggiungere appunto gli obiettivi. Le spinte tecnologiche hanno agevolato l'aumento dei livelli di prevenzione, ci sono tanti investimenti che le banche hanno fatto in questi anni e tutto questo ha agevolato sicuramente la riduzione del fenomeno. Un deterrente potrebbe essere la mancanza di soldi nelle casse oppure anche la difficoltà di accedere all'interno degli istituti? Sì, già questi sono elementi che hanno contribuito appunto a far sì che diminuissero drasticamente gli eventi e su questa linea le banche stanno continuando a operare.